Questo è un momento bello, un momento emozionante per me perché in questi tre anni non dico che sono passati tutti i ragazzi che abbiamo diplomato in regia al centro sperimentale, d'altronde Eliana, l'accordo vetrina iniziale di questo format era proprio quello di dar spazio a questi ragazzi, questi giovani autori, giovani talenti che si apprestano per ricollegarci al discorso di poco fa al mondo del lavoro, quindi ad iniziare un'attività professionale dopo un lungo periodo di studi. E noi adesso ci collegheremo con due ex allieve, si chiamano entrambe Marta, una Violante e l'altra Basso, rappresentano rispettivamente due collettivi di ex allievi che sono La Bandita e Corrente e loro ci racconteranno questa iniziativa che porta il titolo di Partecipezie, avventure di cinema partecipativo tra Palermo e Roma. Quindi se Marco adesso è prontissimo e super efficiente come sempre nel collegamento con le due Marte, una è a Roma, so per certo, Marta Basso, l'altra dovrebbe essere a Palermo, per cui si è reso necessario questo doppio collegamento, per farci raccontare questa iniziativa che ci sarà giovedì prossimo, 19 ottobre, anche lì un contesto recuperato, Eliana che è l'ex cinema Edison di Palermo, verranno proiettati tre film che sono stati realizzati appunto dagli studenti nell'ambito del programma del cinema immagini per la scuola del Ministero. Quindi chiuderemo in bellezza con questi lavori realizzati dagli studenti perché abbiamo parlato tanto delle giornate ma non abbiamo fatto vedere molto su quello che è il frutto e quindi il percorso dei laboratori che si fanno nelle scuole. Torniamo anche in diretta in radio, così proviamo lì a fare direttamente la presentazione per i nostri collegamenti conclusivi di questa bella giornata. E dopo aver ascoltato Elisa con un filo di seta negli abissi, torniamo su Radio In, ma quando è che si sono fatte le 10.35? Quando è successo tutto questo? Il tempo è volato, poi abbiamo avuto una serie di ospiti. Allora, sai come dice Pomar? Pomar chiuderebbe tutte le puntate dicendo il tempo vola quando ci si diverte. Ecco, è vero, ha assolutamente ragione, ma lui è saggio, quindi lui è anche un po' profeta. Ma, non lo so, dici, gli vuoi rendere tutti questi meriti. Ma sì, li voglio bene, quindi lo prezzo e lo stimo. Ma anche io li voglio bene, però conosco anche i suoi difetti. Io no. Cioè, conosco soprattutto i suoi difetti. Io no, ciao Marco. Ti vogliamo bene Marco. Vabbè, dobbiamo tornare anche... Siamo già in FM. Siamo già in FM. Ah, sono arrivate le ospiti. Sono pronte. Allora, benvenute, facciamoli accomodare. E la presentazione la devi fare tu, Ivan, perché eri poco fa con gli occhi emozionati. Con i cuoricini agli occhi. Sono in collegamento con noi, per chi ci segue nella diretta Facebook, con Marta Basso, rappresenta l'associazione Corrente, e con Marta Violante, la bandita. Sono due gruppi di filmmakers indipendenti. Sono ex, in larga parte, ex allievi del Centro Sperimentale di Cinematografia. E giovedì prossimo, 19 ottobre, organizzano questo evento che strilliamo alle nostre spalle, che è partecipezie, avventure di cinema partecipativo tra Palermo e Roma. Benvenute ragazze. Buongiorno a tutti e tutto, grazie. Primissima domanda, chi è che ha tirato fuori questo nome? Una spesa della bandita, Virginia. Sì, ma eravate in fase di brainstorming o è arrivata così dicendo ragazzi ho il nome? In fase di brainstorming, vuole essere, penso si capisca, spero, un po' l'unione di peripezie e partecipazione che è la base dei progetti che presentiamo. Marta Basso, presenterete giovedì tre film collettivi che sono stati realizzati da studenti di scuole medie di Roma e Palermo all'interno di percorsi che voi avete seguito come dei tutor, no? Marta? Sì, questi, diciamo, i percorsi nelle scuole sono stati fatti da la bandita che poi ha, in collaborazione con Corrente, ha trovato questo spazio di proiezione e divisione. Ecco, Marta Basso, parliamo proprio di questo spazio, ci riferiamo all'ex cinema Edison di Palermo. Io ho seguito un po' le fasi che vi ha permesso appunto di recuperare, restituire soprattutto alla città e ai ragazzi uno spazio così importante per la proiezione degli audiovisivi. Sì, per noi, diciamo, è stata una missione che ha anche portato alla costruzione dell'associazione Corrente in un periodo comunque storico in cui molte sale chiudono, in cui c'è bisogno anche di creare comunità intorno alla sala, intorno al cinema e film, c'è stata la possibilità di riaprire le porte dell'ex Edison che, per chi non lo sapesse, è un cinema che si situa dentro al mercato dell'albergheria Ballarò che è chiuso dagli anni Ottanta, quindi c'erano persone che sono riuscite a rientrarci dopo 40 anni che non entravano in quella sala, oltre che a riaprire uno spazio in quartiere per la comunità tutta per cui per noi è stato centrale riuscire a creare anche un dialogo con le istituzioni, un dialogo con le altre associazioni del territorio che sono state sbaratte, SOS Ballarò, Arci Porco Rosso, nonché anche l'aiuto avvenuto grazie all'intervento dell'Università di Palermo che ce l'ha in gestione lo stabile e anche con il centro sperimentale. Avete fatto un'operazione bellissima Marta, io mi sono complimentato con gli altri tuoi colleghi perché quando tu recuperi uno spazio abbandonato, degradato e lo restituisci alla città con un progetto culturalmente così importante, così di alto livello, che permette di aprire le porte anche ai linguaggi dell'audiovisivo, ovviamente è un'operazione veramente che va assolutamente apprezzata e serve da pilota anche per tutte quelle altre strutture che ahimè versano in uno stato di abbandono. Vorrei parlare con voi anche dei film che vengono proiettati, far vedere poi due clip durante la nostra diretta Facebook. Andiamo subito con le clip, facciamo così, andiamo subito con le clip. Intanto c'è Post Malone con Enough is Enough. E mentre siamo su Facebook possiamo guardare insieme le clip. Piazza del Baratto, Marco. Ma chi è quell'uomo? Ah sì, è il povero Avvocato Alfredo. E guardate quello lì. Non potete immaginare che storia, che spavalderia. Ma certo, eccola là l'immancabile e leggendaria regina del mercato. Sua signoria, la nobile donna. Come si atteggia con quel ventaglio. Non so se ognuno ha il proprio destino O se sia il caso a guidarci La fortuna viene e va Questa era appunto la prima clip Tratta dal film Piazza del Baratto Questa cosiddetta trilogia Che verrà fatta vedere Appunto Nell'ambito del progetto Peripezia Il cinema ex Cinema Edison di Palermo Giovedì 19 ottobre Recuperiamo Marta Violante della Bandita Per chiederle Appunto Il corto è stato realizzato dall'Istituto Gonzaga E dal centro Astalli di Palermo Se recuperiamo appunto Marta Violante Che è collegata ma la telecamera spenta Quindi diciamo se ci sente di accendere la camera Magari si è semplicemente sganciata E infatti Se non glielo dicevamo Non si poteva accorgere Allora torniamo in radio Ed eccoci qui tornati in diretta su Radio In Siamo in compagnia di Marta Violante E di Marta Basso Com'è che hai detto tu all'inizio? Marta al quadrato Ma loro lo sanno Ne sono consapevoli E da qui per raccontare Intanto abbiamo avuto l'opportunità Anche di vedere delle immagini importanti Quindi per chi fosse collegato In questo momento alla radio Vi ricordo che la diretta streaming Resterà a vostra disposizione Sulla pagina Facebook di Radio In E lì potrete vedere Anche ciò che magari in questo momento Vi siete persi Sì abbiamo visto Un frammento del corto Piazza del Baratto Realizzato da Gonzaga e centro Astalli di Palermo Chi ce ne parla? Marta Basso? Marta Violante? Ve ne parlo io Dai Facciamo una cosa Chiedo all'altra Marta di staccare un attimo il suo di microfono Così sentiamo meglio l'altra Marta Violante Vai vai Marta Una sorta di seconda edizione La prima era stata fatta appena dopo il covid E Infatti 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 Marta non riusciamo a sentirti Ti sentiamo in terminenza Abbiamo un collegamento frammentato Forse devi trovare un'unica posizione Dove star ferma E magari si sente meglio Prova a parlare Dicevo Questa edizione del progetto di Cima Viene dopo una posizione Che abbiamo realizzato In termine del posto con la pandemia Qui A decine Non ci sentiamo Marta Il collegamento è pessimo Non riusciamo a capire nulla Marta Basso Vediamo se puoi recuperare tu Ovviamente Voi State appunto Organizzando Questa proiezione Di questi tre lavori Marta Basso Sì Brevemente Quello che posso dire Su Piazza del Baratto È di sicuro Un'esperienza Quella che mi è stata raccontata Dalla bandita Molto interessante Perché sono riuscita A creare uno scambio Non solo tra due scuole Ma tra due luoghi della città Ovvero tra Un laboratorio Fatto alla scuola Gonzaga E uno fatto all'Anstalli Quindi unire due posti E anche due situazioni sociali diverse Per poi creare Un incontro e uno scambio Infatti se l'altro anno Erano stati ragazzi Della Stalli Andare a Partecipare al laboratorio Al Gonzaga Ora sono stati ragazzi Del Gonzaga Ad andare a ballare All'Anstalli Quindi creando Creando oltre che Un laborio creativo Insieme Anche un incontro Di realtà diverse Che probabilmente Forse non sarebbero mai Incontrate Per cui Questo sempre anche Ritorna su un po' Un tema centrale Sia per il corrente Che per la bandita Che è quello Del mondo Intorno al cinema Di cosa può portare E fare Attraversare il cinema Che è soprattutto Costruire comunità Questo è molto bello Ragazze Ce lo siamo raccontati Anche in occasione Dei vostri Della realizzazione Dei vostri lavori Durante il percorso Scolastico Ma soprattutto Mettere a disposizione Le vostre competenze La vostra professionalità A servizio Degli studenti E delle scuole Credo sia veramente Un grande Grande Valore aggiunto Noi vedremo adesso Un'altra clip Tratta dal Tesoro perduto Un film che è stato Realizzato dagli Studenti Delle scuole medie Di Scuola medie Di Palermo Il Lombardo Radice Allora Lo guardiamo subito Per fare questo Il trucco è sempre lo stesso Musica alla radio Coece fra quintale Che colpa ne ho Ma intanto Vi aspettiamo in streaming Ed è proprio qui Che possiamo guardare insieme Queste immagini Mi è mai capitato Di mettere le mani Su un tesoro perduto Noi sentiamo Che stavolta Ci siamo vicini Una soffietta anonima Ci ha rivelato Che nel sottosuolo Di Palermo Potrebbe ancora Nascondersi Un tesoro mai trovato È una ricerca complicata Ma noi abbiamo un piano Ripercorreremo i letti Dei due fiumi Che un tempo Delimitavano Palermo Il Chiemania E il Papireto E che scorrono Silenziosi Sotto terra E chiederemo indizi A chi incontreremo Per strada Scommettiamo Che il tesoro È lì Immerso ancora Nelle loro acque Tu sai dove potrebbe essere il tesoro E che il tesoro e abbiamo giusto 30 secondi prima di andare in pubblicità poi tra l'altro per salutare le nostre ospiti aspetteremo di ritornare anzi no possiamo anche fare una cosa entriamo un attimo adesso in radio entriamo adesso in radio così possiamo poi liberare le nostre ospiti e questa era che colpa ne ho torniamo in radio torniamo per questi ultimi istanti in compagnia di Marta e Marta non so se nel frattempo Marta si è spostata vuoi provare a parlare vediamo Marta se si sente troviamo meglio è un po' meglio giusto per salutarci per fare per lanciare il tuo invito conclusivo ok abbiamo capito siamo tutti invitati già va bene così Marta va bene così l'abbiamo intuito che siamo tutti invitati Marta Basso per fortuna Marta Basso ci salva vedi lei è posata con le cuffie il microfono super professional Marta ci sarai tu giovedì per la per questa triplice proiezione io purtroppo no però tutta la bandita l'associazione corrente i ragazzi delle scuole vi aspettiamo all'ex cinema Edison e piazza con la Ianni Ballarò e dalle 18 in poi poi ci sarà a seguire anche un rinfresco il momento per stare tutti insieme e poi anche volevo cogliere l'occasione per ricordare che anche con corrente torneremo con la programmazione autunnale e presto insomma usciremo con qualche informazione in più però per rassicurare insomma tutti che stiamo tornando e l'Edison sta ufficialmente riaprendo. Eh questa è una bellissima notizia poi magari potremo fare un collegamento da lì nel momento in cui sarà sarà operativo grazie ragazze buon lavoro grazie ciao ciao a presto adesso ci sono i consigli di Radio In a presto a presto